Parliamo ora di economia con un commercio totalmente in crisi nel quartiere collinare del Vomero. Sono tantissime, purtroppo, le serracinesche abbassate a causa sia dei trasporti ma soprattutto del caro affitti. Salamante. Non c'è un solo motivo sul tavolo che ha portato di fatto alla crisi del commercio a Vomero. E non è nemmeno più questione di affitti che hanno comunque raggiunto cifre esorbitanti. Stiamo parlando di negozi, anche storici, che abbassano le serrande dopo anni di attività. Da un lato l'apertura di negozi di somministrazione di cibo e bevande che di fatto hanno soppiantato anche numerose attività artigianali. Dall'altro la questione legata alla viabilità, ai mezzi di trasporto che mancano, specie funicolari di chiaie e al traffico perennemente congestionato. Cittadini e comitati chiedono un intervento delle istituzioni affinché il Vomero, antico quartiere colinario, possa ritornare la zona fiorente di prima, soprattutto dal punto di vista commerciale. Il commercio lo sta morendo, abbiamo molti locali chiusi, addirittura qui vicino un negozio che aveva oltre 100 anni di vita si è dovuto trasferire, perché l'abolizione di una ventina di posti di auto, di stalli, con la pedonalizzazione, inutile pedonalizzazione, della quale chiediamo da tempo alla nevoca, sta producendo anche qui dei disastri, con cali di vendita e altro. Quindi noi chiediamo che si provveda più presto a realizzare i parcheggi, a liberare questa piazza, quindi a pedonalizzarla e a far funzionare il sistema di trasporto pubblico in una maniera ottimale.